Ciao a tutti sono Lilli Meraviglia! In questo video voglio provare una cosa che non so se mi riuscirà, molto probabilmente no, però insomma mi piace provare nuove cose Allora un po' di tempo fa un sito mi ha inviato queste cose, cioè io le avevo prese perché ho detto che cos'è? Prima che qua c'è scritto che è tipo una maschera e non lo so che lo deve mischiare con l'acqua, non ho capito Però non ho capito se si deve mischiare con l'acqua normale oppure con qualcosa Ho visto tipo una volta un video in cui uno metteva tipo delle pasticche e della roba in un marchigegno e usciva una maschera Quindi probabilmente servirà per quel marchigegno ma io voglio provare anche se funziona così Apriamo! Ah c'è scritto compressed mask, quindi adesso vedremo, anche se sembra una caramella ma se me lo mangio mi fa una maschera alla lingua Io ho riempito proprio un fondo, arriva qua l'acqua, c'è pochissimo di acqua Adesso proviamo a immergerlo, vediamo che succede Oh mio Dio regà, sta tipo crescendo, oh mio Dio guarda che cos'è? Si è presa tutta l'acqua, mi sa che ce ne vuole ancora Proviamo a mettere un altro po', ancora un altro po' Ma che cos'è? Mmm, non capisco Sembra tipo, non lo so, un marshmallow Ma che... Oh mio Dio, aspettate Ok, credo che sia tipo con... cioè, tipo, oh mio Dio, oh mio Dio, che cos'è? No regà, Dio Oh mio Dio, allora, ok Indietro i capelli Stai andati indietro Troppa lacca, dannazione La mia frangetta rimane perfetta Vabbè, praticamente, cioè, la maschera era tutta compressa veramente La c'aveva ragione Però scusa Non ho durato niente Oddio, ma va bene Io me la metto, eh Oh, ciao ragazzi Oh, è freddissima Forse queste tendine per gli occhi possono anche... Ok, oh me Sono orrenda Ehm, ok Vabbè, questa tendina rimane qui Non lo so Dai, su Sono uno schianto, non pensate? Ma che cos'è? Allora, regà, io non capisco Quanto devo stare così? Scusate, mi sto strizzando la faccia Ora sembro col pizzetto Io non capisco Cioè, forse questa non è una maschera Cioè, nel senso, perché a me mi sembra solo tipo un pezzo di stoffa bagnato Forse le vitamine e le cose ce le dovevo aggiungere io Vabbè, qui dice che è cotone Che basta Però sì, grazie Cos'è? Una maschera al cotone A sto punto faccio la lavatrice Prendo una maglietta Ancora se non è asciutta E me la metto in faccia Cioè, però forse non è così male Cioè, ne dico la faccia No, non è vero Sembra che mi sta cadendo tutto Ho un sacchetto pieno di faccia Cioè, potrei fare maschere A più non posso Un pacchetto di maschere Che bello Vabbè, noi mi sono cagata il cazzo Questa cosa è ridicola Leverò questa roba Oh mio Dio Mi sento rinata La mia pelle è liscia come la seta No, vabbè, diciamo Niente di che Cioè, sono Cioè, cos'è? Questo lo potete stendere E farci il vostro costume di Halloween È un ricordo di questa esperienza mascherale E niente, io non capisco questa cosa Forse, sì, serve qualche ingrediente in più, credo E quindi, niente Vi consiglio questa maschera in sacchetto Mmm, non lo so F-S-C-T Per cosa sta? Sta per fighe Super culona Ma come ti permetti? Tè Me Beh, niente Questo era tutto Adesso non vi darflai così tanto per provare E niente Io spero che questo video vi sia piaciuto A me è un po' sconvolto E ciao Ciao Ciao